Siamo qui per visualpego davanti alla casa di mia nonna con la truccatrice con il prosecco con un fior fiore di prosecco che adesso facciamo anche pubblicità occulta e adesso ci diranno come fare le ferite nei corsi posso però specificare che questa è una mia scoperta l'ho scoperta io questa è una mia scoperta non l'ha trovato il visualpego non dire così però diamo a Cesare qualche di Cesare tanto questa parte la tagliamo e non la diciamo al sala acqua cacao in polvere sciroppo d'acero e colorante alimentare rosso prendere un barattolo col tappino che si chiude e sciogliere in un quinto d'acqua due quinti di cacao aggiungere due quinti di sciroppo d'acero e mescolare fino a che non si ottiene una consistenza giusta e poi all'ultimo per ultimo si aggiunge il colorante si chiude e si agita e poi sul suggerimento della mamma di Alessandro con una siringa togli diciamo la quindi c'è anche la mamma di Alessandro in me beh questo non lo dobbiamo non ci voglio prendere i meriti cose non miei e quindi fare insomma dove serve bene ciao 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 cara